Tinder anche non mi piace. I peggiori su Tinder sono quelli che sono su Tinder per fare amicizia. Ci state facendo perdere tempo. Cercare amicizia su Tinder è come andare all'Ottoberfest da Astemio. Ehi, una bella birretta! Ah no, grazie, per me sono lo strudel. Adolf? Sì! Adesso lavoro qui! Assaccia questa birretta, la produciamo noi! È una lager! Un applauso ad Adolf Hitler! Troppi anni che non mi aspetta!